Se trovo un'arma epica il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Mi serve un'arma, mi serve un'arma, non perdiamo tempo a lutare il legno Arma, 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 arma Cioè sto trovando di tutto tranne che una Ma non è possibile che la mia vita faccia così schifo Ma dai, ma su Ma non siamo ridicoli per piacere Per piacere frate Ma non siamo ridicoli Ti meno, ti meno Se ti ammazzo godo A 20 di vita, a 20 di vita A 20, a 20, a 20, a 20, a 20 Mi serve un'arma A 20 ragazzi L'arma ce l'ho Una questione di onore Una questione È rimasto dall'altra parte il fucile a pompa, grazie Ma questo, ma questo come l'è andato con un'arma Ah no, questo aveva fatto Probabilmente saltato da qualche altra parte Vabbè GG Ah, si è curato Vabbè Ah, ok Un po' traiardoni il tipo Diciamo non molto simpatico Solo che questo sarà pieno di mezzo Cavolo Ti ho detto che è bello iniziare queste partite così, eh Uh, assalto, frate Ti è piaciuta questa? Ti è piaciuta? Non vedevo un attacco così manco dai tempi di Wolverine Sono Wolverine, tra l'altro Mamma mia Ease Ease, boys Ease Ok, ok Molto cringe Molto cringe Mi è andata Assassin's Creed in Fortnite Eh sì, ragazzoli Solo da Porto the Gamer Certe cose, vorrei dire Vediamoci un po' di legno Che mi farebbe piacere fullarci Uh Che? Che? Che è sto coso? Ah Cosa di sti cosi? Mamma mia Che panico Vuol dire Oh, ma Che schermo Abbardamento fuori casa Stanno a fare Uh Ma cosa festeggiate? Che non c'è niente da festeggiare State a casa Che non si possono fare le feste Con più di 20 persone Non sento niente Non sento niente No, no No, no, no Sto quel tipo Sto quel tipo Ciao Mannaggia, raga Mannaggia sti cosi Guarda anche queste botte negli orecchi Non sento niente Eh, questo non me raggiunge tipo Io mi curo Fa niente, raga Per 10 di vita ci sto No, lo devo far cadere però Che tizio noioso Che tizio noioso Veramente Esplodi E ragazzi Ragazzi oggi però Quante ne sto mettendo di fila dentro Oggi ne sto mettendo di fila un paio O sbaglio O sbaglio Follettini e follettine Devo andarmene da sta zona Basta Non ci voglio più stare È una zona bruttissima Ah, finalmente ho gli edges È il nostro obiettivo Circa 5 minuti fa Devo andarmene, raga Vorrei un po' lootare però Sia per la sfida Sia per la safe Evitiamo, dai Qua sta tutto lootato Mannaggia Oh, tizio Mamma mia Dove, 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 dove Dove, dove Che significa Che significa Dove era Ma che Dov'è Cioè io non sto capendo Sono due Sono due Ecco perché non sto capendo niente Ecco perché non sto capendo niente Si sono teletrasportati Eh, bravo Sei forte, frate Sei forte Devo dire la verità No, vabbè, raga Ciao Dai Ma non è possibile Lasciatemi stare Non c'avete niente da fare Non so manco io Come sono sovravvissuto Fino ad ora Allora, dai Vediamo un po' Appiamo sta roba Mi serve subito Un Gentilmente Un Una cesta Che Sento solo gente Che mi arriva addosso Dove è questa cesta Mamma mia Sta oltre i muri Lo so So dov'è So dov'è Solo che la devo andare a P.A. È vero Non so dov'è Non è vero Non so dov'è Non è vero Non so dov'è Però ho un fucile Questa cosa mi era in cuore Esatto Stava sopra Vabbè Modifica No Ok Ok Mi è andata un po' male Mi è andata un po' male Allora Mo Non è che mi servono cure Cioè a me mi serve una casa intera Gentilmente Eppure in fretta Medikit Dai No, no, no Non gioco Lo so che Lo so che è la pozza grande Lo so E raga è troppo rischioso Girare con set Cioè sono one shottabile da tutto Literalmente tutto Dai Eh, eh Ok, ok, ok Un po' meglio Un po' meglio Almeno posso Fullarmi di vita E poi ci vogliamo anche di scudo Dai posso così Non lo sparo o sbaglio? Sì, sì Infatti la mira assistita Mi ha portato sul nemico Ok, ok, ok Non mi ha visto Non mi ha visto Mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Bella per te Però ha costruito subito Bello sto dai ardoni Allora, calmi tutti Mitraglietta Il tizio sta sopra So dov'è Devo solo andarlo a pushare direttamente Potrei anche provare una mossa di questo tipo Non ha senso Lo vedo Lo vedo Lo vedo Muori Ok, scusatemi ragazzi Ah, Medikit Bello fresco Questo ci piace Mi curo subito Tra l'altro qui a Craig Clips Pensavo che si buttasse meno gente Invece la zona verrà lutata molto bene Sinceramente ho paura Perché non vorrei che qualcuno Riuscisse a trovare Qualcosa di epico E poi a portarcelo Comunque tralasciando questo Ah, puzza grande E vabbè, però eh L'ulto iniziale niente male Però mi servirebbe un fucile a pompa Bella frate Mi spiace per tu Uuuuh Bella mossa però Bella mossa per la trappola Poverino Era un altro Wolverine Come me Tra l'altro ragazzi Vi ricordo che io in queste sfide Non posso imbrogliare Perché mentre gioco ragazzi Io sto streammando sul sito Viola Con i ragazzi che mi stanno guardando Quindi se imbrogliassi Ovviamente Loro lo verrebbero Tranquillamente a dire Mi raccomando raga Più che altro Se anche voi volete Aggiungervi alle live E guardare video in anteprima Oh cos'è così? Dio santo L'avevo sentito Mamma mia Ok, dicevo Se anche voi volete Aggiungervi alle live Andate in descrizione Nella sezione live streaming E iniziateci a seguire Che stasera saremo in live Per registrare un video E anche giocherà assieme a voi A Fortnite For guys O among us Calmi calmi Ehm Meglio che Me lo metto in una posizione Più favorevole Così magari mi prendo Il vantaggio iniziale Non ha senso fare così Eh esatto Questo era il vantaggio iniziale Tendo conto che questo Aveva 200 di vita Insomma credo Mamma mia A pochissima vita A pochissima vita Questo tipo lo posso Tranquillamente eliminare Non Ovviamente no Ovviamente no Ovviamente sicura Con 800 cose diverse Da qualunque pianeta E mi fa piacere per lui GG Che c'hai tutta sta roba Ovviamente però Io godo un sacco Io godo con tutto il mio cuore Mamma mia Godo tantissimo Tra l'altro qui Io mi preoccupavo del loot Ma sinceramente Questo loot Fa un po' schifo Eh non è che sia Sto granché Vicino sta pure Nel previsionamento Che potrei andare a prendere Calmi tutti Chest Tu non hai niente di epico Vabbè Questo non conta ragazzi Ci servono armi Quindi ciao Andiamo a pescare Andiamo a fare un po' di pesca Grazie Nicky chap Grazie mille No 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 Non mi hai visto Non mi hai visto Non mi hai visto Mamma mia Hai 85 di vita Questo mi massacrava Meno male frate Er panico L'ho preso quando l'ho visto Meno male che credo fosse FK Una cosa simile Avviciamo un attimo questo Questa zona Teoricamente Dovrebbe quasi passare nessuno Quasi eh Non voglio secciarmi Quindi me la prendo un po' più comoda Magari non tanto quanto il tipo Che si è fatto eliminare Però Avete capito che intendo Dai Hot flopper Vabbè Quasi quasi lo uso È meglio di se utilizzo l'arpione Come funziona Da questo punto di vista Da questo punto di vista Sono un po' ignorante Non lo so Vabbè comunque Per fare prima Ah Thermalt fish Ottimo L'inutilità fatta in coso In pesce Slurp fish Questo è un po' più utile Questo mo levo Questo mo piglio Far più ne riprendiamocelo Shotgun Va bene Altro giretto Niente Non ci capisco Più niente Cosa sta succedendo Il nuovo gioco di Epic Games Non l'ho provato Sapete Mi interesserebbe provarlo Solo che raga Ha così poco tempo Mannaggia Ah E vabbè E quindi Già nel senso Ciao